Il progetto di Fondazione Umana Mente di Allianz, il progetto All4All, quest'anno ha fatto i salti mortali. Queste famiglie sono riuscite a trascorrere questi quattro giorni in modo stupendo ma soprattutto in modo inclusivo con le difficoltà che ci possono essere normalmente ma sempre con la volontà, proprio grazie ai volontari e a tutta l'organizzazione di regalare questa bellissima vacanza. Quindi grazie di esistere, grazie veramente per quello che fate e a nome del team di Egeskis Porto di V e da tutti i nostri volontari vi ringraziamo per questa bellissima opportunità, ci avete coinvolto in questo progetto, ci crediamo fermamente anche noi e questo inizio di questa bellissima collaborazione siamo certi che durerà per diversi anni. Grazie ancora.